Non ci aiuti, Putin è un dittatore, senza alcun dubbio, perché ha perseguitato sempre l'opposizione, perché ha costruito il suo potere sulla sua cerchia, esclusivamente su questo, perché ha una formazione da uomo dei servizi segreti, che deve FSB, cioè un principio chiaro, se non fai parte del gruppo sei nemico, anche se non hai fatto nulla contro il gruppo, gli alleati sono soltanto gli amici. Allora arriviamo a vedere la sua cerchia, partiamo da lui, è pazzo, è un giocatore di poker, è lucido. Arrivare sempre a dire, in una lettura psicoanalitica, che si tratta di un matto, è troppo semplicistico. Mi rendo conto, ci sono studi anche importanti su questo, che dicono che chi è al potere sempre, anche nelle democrazie, ha un'inclinazione alla sociopatia, ma al di là di questo, Putin sta agendo coerentemente con la sua storia, coerentemente con la sua storia. Non è che di improvviso un politico ha deciso un'operazione militare inaspettata con la sua pratica politica. Non c'è un salto, è lineare. Assolutamente. Anzi, le destre cercano di far credere che ci sia stato un salto. Ma come è possibile una persona che ha ucciso oppositori, ucciso giornalisti, attenzione, la dico più precisamente, accusato di aver ucciso giornalisti, accusato di aver ucciso oppositori, perché non è mai stato processato, perché la magistratura è dominata da lui in Russia. Accusato dalla comunità internazionale, dagli osservatori, da tutti gli enti autonomi. E come è possibile, perseguitato alla comunità LGBT, come è possibile stupirsi di un'operazione del genere? Oggi Draghi ha detto una cosa importante.